Una storia che arriva in libreria nella congiuntura politica ideale, ovvero l'Italia della Lega. La storia dell'ingegner Terrone, di nome, è di fatto raccontata dallo scrittore Aldo Forbice. Una storia di riscatto del meridione, il viaggio dell'ingegner Terrone, il pericoloso percorso di un imprenditore del Sud. Questo è il titolo del libro, presentato durante un incontro di battito all'Unione Industriale di Napoli. seduto al centro del tavolo dei relatori, il protagonista della storia, l'ingegner Pasquale Terrone. Il viaggio è il mio, un viaggio che professionalmente ho iniziato 30 anni fa, quando mi sono lavorato alla Federico II in ingegneria meccanica e lì ho avuto qualche problema per il cognome che portavo e le mie origini meridionali. Quando mi sono spostato al nord mi sono imbattuto in una Lega nascente con delle idee balorde di miglio e poi portate avanti in modo molto rivoluzionario e non molto patriottico da parte di Bossi. Ad affrontare i vari aspetti legati alla tematica del libro il giornalista Enzo Agliardi, il presidente del Corecom Campania Mimmo Falco e il consigliere regionale della Campania Carmine De Pascale. La sua storia è un po' la mia storia perché siamo partiti più o meno nello stesso periodo dal paese e da questa storia nascono tanti sentimenti, il sentimento di essere deluso dalle aspettative quando si va al nord e proprio quel sentimento che poi dà forza quando si rientra e si dà la forza per ripartire e ottenere dei risultati, c'è la forza del riscatto.